eccoci qui 18 e 18 scrocia mille dita lo sapevo lo stavo lo dicevi spero che questo dove siamo? di qua oh oh ho sbagliato regia x allora questo è il momento decisivo il momento decisivo perché? perché parliamo di cultura generale anzi anzi parliamo di arte senti qui che musica che bello che bello che bello noi parliamo con un ospite in studio è un piacere averla qui Costanza Alvarez De Castro buonasera 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 grazie per aver accettato il nostro invito per essere arrivata fin qui ti è piaciuta la struttura un endorsement bellissimo i colori? anche i colori anche i colori bisogna chiederglielo perché è lei che deve darci il parere non tu ti ricordo ma non è sola qui non è sola perché in collegamento abbiamo Massimo Scaringella un critico d'arte buonasera Massimo buonasera a voi ok Massimo vediamo se riusciamo a sistemare l'audio perché lo sentiamo un po' disturbato forse con le cuffiette potrebbe andare meglio allora vediamo partiamo dalla nostra artista partiamo dalla nostra pittrice come è nata questa passione? allora la passione forse c'è da sempre però poi all'università mi sono laureata prima in economia quindi diciamo che poi si è sviluppata dopo prima con la scenografia nel mondo del cinema e poi lì dalla scenografia poi ho lavorato in teatro e poi dopo è arrivata la parte quindi se vuoi dare una mano anche qui per la scenografia insomma noi siamo pronti ti piace? è bellissimo ha detto che sì ha detto che gli piacciono anche i colori quindi mi dici non insistere non insistere ce l'ho anche però io sono convinto di un fatto tu dici io a me è partita da subito da sempre ho la passione per la pittura quando te ne sei accorta? quando è quel giorno? cosa stavi facendo? che hai scoperto il talento esatto ricordi? il giorno che ho scoperto il talento sì è molto preciso avevo stavo cercando di fare un concorso per entrare a una scuola di scenografia per la scala a Milano e tra le varie prove c'era un disegno dal vero e io non è che disegnavo ma non tantissimo e quel giorno mi ero allenata per fare questo concorso e lì ho scoperto che in qualche modo sapevo disegnare e ce l'hai dentro è un talento noi chiediamo alla regia anche di fare scorrere le immagini delle opere di Costanza Alvarez De Castro anche perché adesso faremo un gioco noi faremo vedere dei quadri e Deborah e non solo quadri perché Costanza poi ci racconterà dipinge anche su un muro fa dei murales murales di quelli veri veri non quelli là illegali che non si fanno sono pure sempre opere d'arte però sono illegali diciamolo sono illegali questa è Costanza mentre svolge la sua attività e Massimo Scaringella vengo subito da lei allora voi vi conoscete ovviamente avete anche lavorato insieme ci descrive artisticamente l'ospite che abbiamo in studio quindi Costanza è sicuramente una grandissima e abilissima pittrice che lo ha dimostrato nel corso di questi anni passando da diverse molti della figurazione ossia da una figurazione iperrealista con elementi naturali a una figurazione più ibrida dove gli elementi invece erano oggetti della quotidianità che lei trasformava in opere d'arte allora ha parlato di già mi sono perso naturalezza quindi quindi la classica natura morta o natura viva con dei colori invece vivaci allora si diciamo natura morta come genere sono dei quadri di dimensioni molto grandi quello quello che vedevamo prima ecco questo è quasi almeno due metri per uno quindi come sono grandi e di conseguenza ovviamente essendo i frutti molto grandi sento la composizione quasi astratta quella di fondo c'è questa linea con il fondo neutro diciamo è per rendere un po' la natura morta in un genere un po' più contemporaneo quindi una pittura molto classica con una composizione però ora facciamo questo gioco vediamo Deborah tu in questo quadro chiedo a Manuel Mazzetta di dimostrarlo a schermo intero cosa vedi? non mi dire vedo dei limoni delle foglie quello che ti arriva immagina che adesso siamo in una bella galleria d'arte siamo qui e ci mettiamo da perfetti insomma niente sconosciuti ci mettiamo lì e diciamo guarda questo secondo me ha qualcosa di è perché cosa ha? allora io non sono un critico come scaringella però noto che è molto tridimensionale è come se potessi raccogliere i limoni caringella lei cosa nota invece da critico? si nota intanto appunto una dimensione una concretezza dell'oggetto e non un appiattimento come normalmente sarebbe in una pittura di tipo differente questo orizzonte che c'è dietro e che sapientemente l'artista ha dato gli dà questa tridimensionalità come se fosse un oggetto appunto che si può toccare ed è quello proprio l'artefice della pittura di Costanza Costanza quanto hai impiegato a livello di tempo per poter realizzare quest'opera ma soprattutto per dare la tridimensionalità la tridimensionalità cioè è un contesto oltre come hai fatto a vedere a immaginare i limoni cercare anche il modo in cui fare le dimensioni per rendere tutto omogeneo la composizione la penso prima i limoni li ho raccolti li ho messi li ho composti sul tavolo e poi li ho fotografati perché ci metto tipo un mese e mezzo e quindi ovviamente i limoni dopo un po' si riluminano per cui però parto da una composizione che faccio effettivamente fotografo e poi porto e questo è con tutto? questo è con quasi tutto quasi tutto alcuni quello della giunga quello lì per esempio questo non è questo è inventato è un paesaggio inventato quindi non è nessuna immagine davanti tu qui direi occhi chiusi anche se non è così però vai no lavoro con delle con delle piante ho fotografato negli anni delle piante però non è il paesaggio intero che ho fotografato se no poi lo compongo ovviamente alcune piante magari ho dei riferimenti rivediamola questa immagine io tiro fuori le mie sensazioni parlo da profano scaringella parlo da profano sia clemente come a me questa immagine dà allo stesso tempo un senso di pace dispensieratezza ma anche un senso di chiuso di oppressione scaringella sbaglio? no no perché c'è tutta la parte in alto che è questo volo di uccelli che sono la libertà e poi se uno fa in una parte bassa che diventa più scura la tavolozza quindi c'è come uscire dall'abisso per andare verso il cielo ed è lì credo che sia il messaggio che ha voluto dare costanza io volevo farle una domanda che può sembrare anche banale ma da critico lei nota quando un paesaggio è realistico o quando è frutto solo dell'immaginazione dell'artista? ma non è necessario fare questa divisione perché comunque è come se uno dicesse alle altre persone usa un altro linguaggio l'artista usa il suo linguaggio quindi o è vero o è falso diventa vero comunque vero è vero il senso di questa immagine di questa opera d'arte tu l'hai concepito con voglio dare questo messaggio il messaggio no non concepisco mai il mio lavoro con l'intenzione di dare un messaggio in particolare quindi non comunichi con le tue perdone non è il tuo senso sì comunico però non penso prima non è premeditata non è premeditata ma rispecchi invece il tuo umore in quel momento sì quello forse sì ovviamente questo per esempio sono stati tre mesi di lavoro il quadro è molto grande e quindi sì nel tempo ovviamente poi si sviluppa un'emozione che corrisponde a quel momento lì ecco ovviamente il quadro per quanto tempo è stato dipinto un mese un mese e mezzo tre mesi questo qui questo tre mesi sì cioè lì cambiano le lune quindi cambia anche l'umore quante volte sei sei stata portata a cambiare anche il quadro nel mentre oh tante volte mi capita di il giorno successivo vedo che c'è qualcosa che non ha funzionato e lo ricambio quello finché non è un continuo un continuo di ricambiare quante ore al giorno sei lì a fare lo vediamo adesso in queste immagini a dipingere le ore tante non si contano non hai orari cioè non è che fai otto ore che ne so dalla mattina alle otto fino alla sera al pomeriggio poi stacchi basta non esiste più perché l'arte è in continuo la notte magari ti è mai capitato ecco appunto la notte a volte lavoro di notte anche mi è capitato fino alle tre di notte è un momento molto di pace dove non ci sono disturbi da fuori e quindi mi piace molto lavorare di notte ma sì lavoro tantissimo io lavoro tantissime ore al giorno il murales quello lì sono state tre settimane tredici quattordici ore al giorno da lunedì a domenica è quel video eccolo qui vedi c'è anche un grande dispendio fisico abbiamo detto nel fuorionda questo sì il resto era tutto tv verità quindi le impressioni di Debora e le mie erano vere ecco di questo ne abbiamo parlato perché hai lavorato per una grande azienda e questo è il lavoro durato tanto grande dispendio energetico Caringella secondo lei l'artista qui dov'è che mi dà il meglio di sé sulla tela oppure sul muro con i murales io come critico preferisco sulla tela chiaramente sono composizioni in ambiti diversi e per scopi diversi quindi diciamo il lavoro è fantastico perché chiaramente chi entrerà in quella stanza si troverà in un altro mondo e vittoricamente è molto luminoso di dare una storia di entrare dentro una storia però per una natura preferisco e Costanza lo sa i piccoli oggetti che lei rende praticamente parte nonostante che siano dei piccolissimi oggetti certo quel quadro l'ultimo che non abbiamo visto Costanza Fremmi vuole vedere questo perché è la parte più bella Deborah era quello di cui parlava Massimo adesso quegli oggetti lì allora c'è un altro che abbiamo visto nel fuori onda lo vediamo chiediamo alla regia eccolo qui allora voi telespettatori e qui io aprirei addirittura le telefonate senti un po' che ti dico quasi quasi apriamo le telefonate 0689 3 2 0 0 3 2 che cos'è ma soprattutto è un dipinto o è un oggetto o è qualcosa di reale perché io ancora non l'ho capito se è un dipinto o più allora io vedo da una parte nell'immagine di sinistra Deborah dimmi se sbaglio devo chinare un pochino il capo un coniglio ma tu devi andare a uno psicologo aspetta 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 poi se invece lo guardo sempre con il capo chinato è una spilatrice dall'altra parte invece dalla parte destra non ho idea tu? è un po' un po' particolare come anche disegno disegno ovviamente tutto nasce da un disegno poi c'è un'immagine sì in realtà raramente disegno proprio sotto lo faccio direttamente a pittura però sì comunque è una forma di disegno semplicemente ma una bozza sì in senso una bozza ma a pennello cioè non con la matita diciamo quindi quanto cambia anche a seconda dell'artista assolutamente di fare il modo di mettere anche su carta su un foglio le proprie emozioni sì questa è una tela però sì comunque è la stessa cosa che sia carta o tela ecco la differenza carta tela perché molti disegnano anche su una grandissima su un grandissimo foglio di carta sì sulla carta sì la carta però è più per disegnare appunto più che per dipingere si può anche ovviamente dipingere su carta questo è a gusto dell'artista le tele è più facile fare grandi dimensioni magari rispetto alla carta che comunque non esiste di grandissime dimensioni però sempre un lavoro che entrambi allora sono le 18 e 31 noi andiamo in pubblicità ma torniamo tra pochissimo sempre con i nostri ospiti più Grazie a tutti